Si è parlato tanto di nomi che cambiano reti, voi al telemercato non partecipate? No, diciamo che noi abbiamo la fortuna di poter scegliere, quindi sicuramente abbiamo dei personaggi nuovi perché infatti ho dimenticato di citare che abbiamo lanciato a maggio con un successo, devo dire, travolgente il Jalapa Show, con il mago Forrest, il commento di Giorgio Gerarducci e Marco Santin, è in Simulcast su TV8 e su Sky1, è un programma fantastico che abbiamo riconfermato. Loro hanno scelto noi, noi abbiamo scelto loro e così, devo dire, accade anche con Costantino della Gerardesca, con Vittoria Cabello, piuttosto che con Alessandro Borghese, i nostri chef di Masterchef. abbiamo dei talenti che sono nuovi o che chiamiamo, ma che corrispondono sempre alla nostra identità e che sono felici di sposarci. Non partecipiamo ai mercati se non a quelli del calciomercato che viene commentato dai miei colleghi di sport. TV8, io ho avuto l'onore e il piacere di lanciarlo, addirittura andando a New York proprio a fare la trattativa per il canale e è un canale che va benissimo, è una delle due reti italiane che cresce nell'ultimo anno ed è sicuramente la rete che cresce di più, ha un'identità molto precisa, fatta da 100% con Nicola Savino, 100% Italia, fatta dalla Gialappas, da Alessandro Borghese con Celebrity Chef, da Viaggi Pazzeschi con Vicky e Paride, anche dalle seconde finestre di diritti sportivi di Sky che sicuramente fanno un pezzo molto importante e molto rilevante.